L'ordinanza l'avrei depositata stamattina ma voi siete testimoni perché vi ho visto siamo stati qui a lavorare in Consiglio Metropolitano dalle 11 sino ad ora che sono appunto più o meno le ore 16 e 30 e quindi come adesso arrivo in ufficio firmo e deposio l'ordinanza su cui abbiamo lavorato fino a questa mattina. L'ordinanza è un'ordinanza importante, voglio subito però sottolineare che non si faccia troppo un affidamento salvifico sull'ordinanza, l'ordinanza non ha la capacità, il potere e la mission di risolvere tutti i problemi o i problemi che esistono connessi alla movida. Questa ordinanza tiene conto delle indicazioni che sono venute fuori nel Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, tiene conto anche del dibattito che si è animato in città, nei luoghi istituzionali e anche non istituzionali. Noi fortemente crediamo che questa città debba possa avere quella maturità e quel senso di responsabilità di trovare un punto di equilibrio tra diritti che in questo momento appaiono distanti, che sono il diritto alla quiete, al riposo, alla sicurezza, al diritto alla mobilità, all'intrattenimento, al divertimento, allo stare insieme, a far parte di una comunità così importante in una città che sta avendo tra l'altro un'esplosione turistico-culturale e di vitalità giovanile mai come in questo momento. Come lo si può fare? Non può dipendere solo da un'ordinanza. Quindi io mi attendo a un contributo di maturità da parte di tutti, degli operatori commerciali, degli operatori economici, dei fruitori della movida, dei residenti. Qui noi stabiliamo delle regole che sono frutto delle esperienze, delle indicazioni che sono venute fuori dal patto di convivenza civile che è stato già firmato da operatori economici e alcuni residenti, che è il frutto anche di altre consulte che ci sono state e che quindi vengono adesso ribadite anche nell'ordinanza. In più ci sono le sanzioni che ovviamente negli accordi tra le parti senza l'intervento formale dell'amministrazione non c'è sanzione. Con questa ordinanza ci sono delle sanzioni che troverete. Mi sento di dire che non c'è nessun cambiamento di rotta da parte dell'amministrazione. Questa amministrazione non è contro la movida, così come questa amministrazione vuole cercare, per quanto può fare insieme alle altre istituzioni, di garantire la sicurezza di tutti, compreso della stragrande maggioranza dei fruitori della movida e anche la sicurezza e la quiete di chi vuole riposare. Poi un ruolo fondamentale, viene scritto anche nell'ordinanza, lo devono avere le forze di polizia, perché poi i temi principali della movida, è inutile che ci nascondiamo, sono legati al controllo del territorio, sia sotto il profilo della viabilità e della mobilità, e questo riguarda in particolare Bagnoli e Vianello Falcone, ma anche con riguardo al controllo del territorio per prevenire fatti criminosi, come bottiglie di vetro che magari vengono spaccate in testa a qualcuno, o peggio ancora, persone che girano armate di coltelli o altro. Questo è un tema che nell'ordinanza il sindaco non è il comandante delle forze di polizia, però dato delle indicazioni precise, noi siamo soddisfatti e chi viola regole importanti subisce in alcuni casi anche delle sanzioni gravi fino alla chiusura dell'esercizio commerciale. Quindi crediamo di aver trovato un punto di equilibrio, non si va verso una desertificazione notturna della città, anzi, quando vedrete gli orari vi renderete conto che una città come Napoli deve avere l'ambizione di vivere H24, contemperando diritti e interessi di tutti.